Un incremento di 24 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2017 è quanto attestato dai dati sulla raccolta differenziata relativi a dicembre 2018 forniti dal Consorzio di Bacino Salerno II. Il documento dell'ente consortile inviato al Comune nei primi giorni del 2019 ha certificato una raccolta differenziata al 70,64%, una cifra che è paragonata al dato del dicembre 2017, 46,42%, si traduce in un aumento del 24,22%, a dare peso al risultato le tonnellate del cosiddetto indifferenziato 915 nel dicembre 2017 e 748 nel 2018, segno, secondo l'amministrazione, di una maggiore attenzione dei cittadini nel differenziare i rifiuti prodotti, un trend già registrato nei mesi scorsi che si sta confermando ad ogni rilevamento.